Tornerà in Marocco la salma del 43enne operario deceduto sul lavoro nella zona periferica ebolitana. La moglie e la figlia di 5 anni lo riaccompagneranno per il funerale. Il lavoratore è scomparso lunedì sera in un incidente sul lavoro nell'azienda agricolo di Campolongo. Da quanto è emerso il 43enne non potrà essere seppellito né a Battipaglia dove abita da anni con la sua famiglia né ad Eboli perché non vi sono cimiteri musulmani. Ora si attende perciò il visto del consolato che si accollerà alle spese del rimpatrio ma non quelle del funerale. La comunità marocchina dei due comuni è già all'opera ed ha organizzato una raccolta fondi per aiutare la famiglia distrutta dalla gravissima perdita. L'operario secondo una prima ricostruzione dei fatti stava lavorando presso la cooperativa agricola che si occupa di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Era presumibilmente alla guida di un carrello elevatore con il quale aveva sollevato una pesante pedana purtroppo per cause ancora in via di chiarimento sembra che il mezzo e pedana si sono ribaltati e tutto il carico agli è trovato addosso. L'uomo è morto sul corpo nonostante i soccorsi siano prontamente intervenuti. Adesso si spera il primo possibile di rimpatriare la Salma in Marocco.